Si fa presto a dire plastica. Ci sono tante tipologie di plastiche e solo una parte dei prodotti che utilizziamo quotidianamente può essere conferita nella raccolta dedicata a questa frazione di rifiuto. Quali sono gli oggetti in plastica che possono essere gettati nei contenitori gialli? Recipienti e imballaggi, baschette per alimenti, incarti, bottiglie e flaconi, vasetti e barattoli che siano prima stati svuotati e lavati. Solo così è possibile garantire una raccolta di qualità e, ciò che più conta, idonea al riciclo. Per rispondere alla domanda plastica o non plastica è possibile consultare il vocabolario dei rifiuti sul sito www.gruppomarchemultiservizi.it e disponibile presso tutti gli sportelli clienti. Hai delle domande da porgere in merito alla raccolta differenziata? Scrivici al numero 370-366-7210. Ti daremo tutte le risposte.